Buonasera e benvenuti dal notiziario delle Marche di TVRS. Tutta la prima pagina del nostro giornale è inevitabilmente dedicata alla pandemia. I numeri sono impietosi e porteranno di questo passo dritti verso la zona arancione nelle Marche, come peraltro preannunciato dalla Presidente Acquaroli. Si procede di primato in primato con la curva epidemiologica che non accenna ad attenuarsi. Anzi, ormai saltato il sistema di tracciamento, pronti i soccorsi in difficoltà reggono le strutture ospedaliere per il fatto che il numero dei degenti nelle terapie intensive resta ancora invariato, a quota 43. Salgono di tre unità i ricoverati nelle aree semi-intensive, che sono 57, mentre complessivamente siamo a 260, uno in meno rispetto a ieri. Purtroppo ci sono da registrare ancora sette decessi, cinque uomini e due donne, tra cui un'anziana di 105 anni residente a Pesaro. Le altre vittime provenivano da Belvedere, Ostrense, Monte San Vito, Vallefoglia, Senigallia, Ascoli Piceno e Pesaro. Il più giovane aveva 71 anni. Il totale arriva quindi a 3.243, con una età media di 82 anni. E parlavamo delle cifre che aumentano di giorno in giorno. Sentiamo i dettagli nel servizio curato per noi da Manolita Scocco. Non si arresta l'ondata dei contagi nelle Marche, che anzi aumenta giorno dopo giorno, costringendoci ad un bollettino impietoso. Oggi se ne registrano 1.814, dopo il picco di ieri di oltre 1.700 nuovi casi, con l'indice di incidenza che sale a 486,61 su 100.000 abitanti. Secondo i dati dell'osservatorio epidemiologico regionale, è record anche di tamponi analizzati, 15.916 in totale. La provincia di Ancona resta quella con il maggior numero di casi, 463, seguita da Macerata con 317, Fermo con 307, Ascoli Piceno con 280, Pesaro Urbino con 275 e 172 casi fuori regione. Ed è ancora la fascia di età, 25-44 anni, con 628 casi, quella più contagiata, seguita da chi ha tra 45 e 59 anni. Spiccano i 330 casi tra 0 e 18 anni, di cui 130 nella fascia 6-10 anni. E fa riflettere l'ultimo dato, il 74% dei pazienti in terapia intensiva non è vaccinato. E raggiungiamo a questi dati anche quelli che emergono dal consueto monitoraggio settimanale le gimbe sopra la soglia di saturazione sia ai posti letto in area medica, 22%, che in terapia intensiva, 17%. La popolazione che ha completato il ciclo vaccinale nelle Marche è pari al 76,8%, leggermente al di sotto della media nazionale. In una sola settimana l'aumento dei nuovi casi è stato pari al 23,4%. E sarebbero rientrate le dimissioni di Giorgio Amadio, direttore del Dipartimento area medica dell'ospedale Murri di Fermo. Ad annunciarlo il direttore alla vasta 4, Roberto Grinta, che sottolinea come grazie alla collaborazione del personale si garantisce comunque l'assistenza dei pazienti Covid al reparto. Per quanto riguarda la riorganizzazione complessiva, un ruolo centrale nel territorio sarà riservato al nosocomio di Sant'Elpidia Mare. Ed è stato presentato oggi presso la sede della Marina Militare a Dancone il nuovo punto tamponi drive-thru, destinato agli studenti e che aprirà i battenti con la ripresa delle lezioni dopo le vacanze natalizie. Il progetto, denominato per azione Atena, prevede che la difesa concorrerà nell'attività di tracciamento della popolazione scolastica al fine di evitare ovviamente la didattica a distanza laddove possibile. Al momento servirà la provincia di Ancona, ma sarà disponibile per le emergenze anche delle altre province in vista di un potenziamento della presenza di altri dispositivi simili sul territorio, se necessarie. La struttura sarà in grado di rilevare fino a 250 tamponi al giorno e di processarne tra i 90 e i 180 in 7-10 ore. Presente anche l'assessore regionale alla sanità, Filippo Saltamartini, che ha fissato importanti obiettivi per la campagna vaccinale da intensificarsi assolutamente nel prossimo mese di gennaio. Sentiamo. I temi principali sono essenzialmente tre. Il primo, la necessità di vaccinare 450.000 marchigiani nel mese di gennaio. È un'opera imponente, dobbiamo vaccinare 16.000 persone al giorno perché con le nuove norme per cui la copertura vaccinale si esaurisce dopo quattro mesi alla seconda dose, c'è questa emergenza. Quindi dobbiamo potenziare tutte le linee vaccinali e vaccinare 16.000 persone al giorno per raggiungere la copertura totale con la terza dose di tutte le persone che devono essere vaccinate. Il secondo tema è la riapertura in sicurezza delle scuole. Come sapete, il governo ieri ha emanato un decreto legge, deve essere ancora pubblicato in gazzetta ufficiale, io non l'ho visto ancora, che prevede però delle misure importanti, cioè le persone vaccinate, ancorché positive, se non hanno sintomi, non sono sottoposte sostanzialmente al contact tracing, il che significa che l'area di verifica per la sanità pubblica interesserà le persone disabili, le persone che hanno delle patologie e le persone non vaccinate. stiamo allestendo sostanzialmente un meccanismo per un triage attraverso i tamponi per gli studenti, perché noi non possiamo non garantire le lezioni frontali. Lo voglio dire perché abbiamo bisogno che i nostri studenti non possano perdere non solo i profili di istruzione necessari alla prosecuzione della loro attività di formazione, ma quanto soprattutto perché ci sono delle evidenze di conseguenze anche sul profilo psicologico derivante dalla DAD. Come sapete, la Regione Marche ha organizzato e potenzierà lo strumento il risultato della purificazione dell'aria nelle aule. Questo esperimento che noi abbiamo avviato un anno fa su proposta dell'assessore Latini e del collega Baldelli ha evidenziato un elemento straordinariamente importante, cioè nelle scuole dove c'è il purificatore d'aria non si sono verificati i casi, c'è stato un solo caso positivo e la positività non si è trasmessa agli altri studenti. Quindi stiamo lavorando in quella direzione, e questo meccanismo delle Marche è stato preso un po' in considerazione a livello internazionale. Le persone che si sono prenotate, che sono state spalmate dal sistema poste a febbraio, marzo e addirittura ad aprire, dovranno tutte essere riconvertite per la vaccinazione di gennaio. E quindi chi non dovesse essere contattato, non certo oggi o domani, ma nella prossima settimana, nei prossimi dieci giorni dall'Asur, ecco, deve chiamare il numero verde e chiedere la ricollocazione a gennaio. Quindi diciamo che il sistema è imponente, vaccinare 450.000 persone, che non è una passeggiata, lo voglio sottolineare, nessuna regione ha un programma così imponente in un mese. La seconda questione, il tracciamento delle persone non vaccinate che risultassero positive, e tutta l'attività preventiva per garantire le elezioni frontali, che in questo caso viene garantita anche dall'importante impegno della Marina Militare. Ancora una triste notizia, ma stavolta di cronaca. Non ce l'ha fatta purtroppo lo studente di 17 anni coinvolto in un gravissimo incidente stradale avvenuto martedì scorso a Monzano, presso la zona industriale. Le condizioni del giovane erano subito apparse disperate. Dopo 48 ore, i medici hanno dovuto dichiarare la morte cerebrale e la famiglia avrebbe acconsentito all'espianto degli organi. Un 2022 di rigenerazione, l'ha definito così Matteo Ricci, sindaco di Pesaro, nella tradizionale conferenza stampa di fine anno, dove sono state presentate anche due novità nella giunta. La strada interquartieri, inoltre di Muraglia, sarà intitolata di Enrico Berlinguer a 100 anni dalla nascita e la servizio di Camilla Cataldo. È stato un anno di combattimento, ha assicurato il sindaco Matteo Ricci nella conferenza di fine anno nella Sala del Consiglio presso il Comune di Pesaro. Abbiamo dato sostegno alla popolazione in questo periodo di Covid, con un impegno molto importante che ha coinvolto centinaia di volontari e migliaia di famiglie, con al centro la coesione sociale, le parole del primo cittadino. Si è parlato del tema della sicurezza, la fase è delicata, sul vaccino la regione ha avuto troppa ambiguità, Le scuole rischiano la DAD, la situazione del pronto soccorso è emergenziale, sotto stress, così non si può andare avanti, tuona Ricci. Il bilancio è stato gestito molto bene, con rimborsi da parte del governo. Programmare gli eventi è stato complicato e l'economia si è rimessa in moto. Serve un 2022 di rigenerazione, la definizione di Matteo Ricci, che ha dato il benvenuto ai due nuovi assessori Camilla Murgia e Luca Pandolfi. Si punta sull'extrapolitana, nuova sfida che si affianca all'allungamento della bicipolitana. Sport, urbanistica, PNRR, nuovo ospedale, vecchio palace, interquartieri, si sono toccati tutti gli argomenti. Sì, la battaglia continua, perché ovviamente la variante del Covid si costringe a rafforzare ulteriormente le prescrizioni e l'invito è quello di vaccinarsi. Basta ambiguità sul vaccino, non c'è altra difesa in questo momento che il vaccino. Anticipare le terze dosi, vaccinare i bambini, mettere in sicurezza la scuola. Credo che questa debba essere la priorità per tutti coloro che hanno una responsabilità politica, perché se non sconfiggiamo il virus non riusciremo a vivere come vorremmo e non riusciamo a sostenere come vogliamo una crescita economica che per fortuna nella nostra città è molto forte perché non si trovano operaie e dipendenti da nessuna parte. Al tempo stesso però abbiamo bisogno di rigenerarci, per questo abbiamo rigenerato la Giunta con qualche componente nuovo, in bocca al lupo a Camilla Murgia e a Luca Pandolfi, grazie a Giuliana Seccarelli e a Sara Menguzzi per il grande lavoro svolto e abbiamo rivisto un po' di deleghe perché abbiamo bisogno, come ho detto oggi in Giunta, degli occhi della tigra, non so chi di voi si ricorda di Rochi Balboa, abbiamo bisogno degli occhi della tigra perché non è una fase ordinaria, è una fase straordinaria nella quale abbiamo bisogno di dare tutto noi stessi a servizio di una comunità che deve combattere, al tempo stesso rigenerarsi, rigenerare l'economia, mettere a terra una mole infinita di risorse per gli investimenti che abbiamo ottenuto e che otterremo e cercare il più possibile di rimettere in moto anche il turismo, la cultura, con un occhio particolare, come sempre è stato per il nostro territorio, ai più deboli, alla scuola e all'ambiente. Quindi queste sono le priorità che abbiamo nel 2022 con tanti dossier aperti. La sostanza è che non si può andare avanti con un ospedale che ha un pronto soccorso, così intasato, con personale sanitario che da troppo tempo è sotto stress, che ha bisogno di un rafforzamento e di un'organizzazione differente, anche rispetto al resto dell'ospedale. Quindi la città è dalla parte di Nudi, questo sono assolutamente convinto e non a caso dal primo minuto ho cercato di interpretare nel modo migliore le parole che lui stesso ha più volte espresso. Il nuovo ospedale è un impegno importante che la Regione Marche ha preso, non è il nuovo ospedale che avevamo in mente noi, però almeno un passo avanti per una struttura nuova e adesso dobbiamo entrare nel merito, perché il fatto che sia stato scelto è finanziato, è positivo, adesso dobbiamo entrare nel merito col Presidente Quaroli sul crono programma e sul contenuto del contenitore. Per noi è imprescindibile l'azienda sanitaria, perché senza azienda ospedaliera non avremo le eccellenze che servono e ovviamente vogliamo discutere anche di come questo nuovo ospedale si relazionerà con il resto del territorio e con la struttura di Fano che rimane e che di conseguenza diventa fondamentale per l'azienda Marche Nord. Il 2022 sarà l'anno del ritorno delle fanalette di Coppa Italia e del completamento del Vecchio Palace? Sì, sul Vecchio Palace continuiamo a avere dei problemi, però è una struttura che per fortuna abbiamo coperto, quindi il grosso dei lavori strutturali è stato fatto, adesso dobbiamo fare dei lavori di completamento e farli nel più breve tempo possibile, perché è una struttura fondamentale per noi, quindi un cantiere che ha avuto diversi problemi, ma che dobbiamo assolutamente nel 2022 completare e inaugurare. Sulle fanalette è una grande sfida e ovviamente dovremo farla non solo con tutte le precauzioni disposte dalla legge, quindi il Green Pass, la mascherina, eccetera, eccetera, ma anche con una capienza ridotta, pare. Almeno quest'anno da noi ci sarà il 35% di capienza che per un palazzetto come Pesaro sono circa 4.000 persone, quindi comunque stiamo parlando di un pubblico abbastanza importante. Il Consiglio regionale ha approvato nella seduta di ieri il documento di economia e finanze del bilancio di previsione 2022-2024. L'obiettivo, ha detto l'assessore Guido Castelli, è avviare la ricostruzione delle marche da regione in transizione a regione in transito verso una nuova crescita. Le risorse ci sono, vanno utilizzate al meglio e velocemente. Il taglio delle risorse, però, e le minori entrate tributarie non ha impedito importanti stanziamenti nei vari settori come economia, politica del lavoro, politiche sociali, trasporti ed ambiente. E sempre l'Assemblea legislativa ha preso in esame due importanti emendamenti in tema venatorio. Sentiamo l'intervista con Mirko Carloni. In tema di caccia, in particolar modo di caccia alliungolata, l'attenzione della regione Amar che è sempre molto alta e anche in questo caso lo dimostra con due emendamenti il gruppo Lega. Quali sono i contenuti? Allora, come maggioranza abbiamo fatto due emendamenti importanti per il mondo venatorio ma io direi anche per la sicurezza che in questo momento viene messa in discussione nelle nostre strade dalla presenza dei cinghiali ma soprattutto anche dai danni che noi paghiamo agli agricoltori per i tanti danneggiamenti che gli ungolati fanno nell'attività agricola. Quindi abbiamo fatto un protocollo di intesa lo abbiamo finanziato anche ieri sera per dare la possibilità ai sindaci di intervenire anche nelle zone urbane per la cattura. Abbiamo chiesto agli agricoltori di fare un'attività di controllo con il fascicolo agricolo sul fondo e stiamo chiedendo in modo particolare ai cinghiali di lavorare assiduamente a fianco a noi per riuscire a ridurre il numero e l'impatto della presenza degli ungolati che va assolutamente rispettata ma è evidente che adesso abbiamo un problema che non è più solto soltanto un tema venatorio ma è un tema di sicurezza e anche di agricoltura. Quindi cosa abbiamo fatto oggi? Poiché è entrata in vigore una tariffazione prevista dalla conferenza Stato-Regioni e l'Azur ha introdotto delle nuove tariffe per le visite obbligatorie veterinarie a carico dei cacciatori con questo emendamento la maggioranza ricompensa il maggior costo all'Azur in modo che non venga chiesto ai cacciatori perché sarebbe grave se da un lato chiediamo di aumentare lo sforzo di prelievo e dall'altro gli aumentiamo i costi per poterlo fare quindi con il nostro atto siamo riusciti come maggioranza un emendamento firmato da Marinelli e da Ausili a introdurre una compensazione a questi costi e contemporaneamente abbiamo fatto un altro emendamento sempre della maggioranza con cui esoneriamo dal pagamento della licenza di caccia dell'imposta regionale sulla licenza di caccia a chi prende la licenza per i primi due anni dal conseguimento della licenza di caccia Recanati piange la morte di Paola Ottaviani notissima imprenditrice sconfitta 54 anni da un male incurabile era l'amministratrice delegata dell'Ottaviani S.P.A. azienda leader nella produzione di gioielli prodotti in metallo prezioso dal 1945 un messaggio di cordoglio aggiunto anche dall'amministrazione comunale che rimarca come ci abbia lasciato una donna indissolubilmente legata alla sua terra che ha contribuito a far conoscere l'arte orafa re canatese in Italia e nel mondo ed incontro con la stampa anche per l'amministrazione comunale di Osimo che chiude il 2021 rimarcando i 19 milioni di euro di investimenti per la città il servizio 19 milioni di euro di investimenti in un 2021 particolarmente importante per la programmazione politica con il 2022 che dovrebbe essere l'anno dei tagli dei nastri di molte nuove opere questo è il numero che emerge dalla conferenza stampa di fine anno indetta dal sindaco Simone Pugnaloni che affiancato dai suoi sei assessori e dal presidente del consiglio comunale ha illustrato le principali attività e i risultati raggiunti indicando altresì gli obiettivi per l'anno che verrà devo dire che l'anno 2021 è stato l'anno più importante di questo secondo mandato perché ci sono 19 milioni di euro di opere pubbliche in ballo però il 2022 e poi il 23 saranno due anni importanti per vedere il taglio del nastro e tutte le opere progettate quest'anno che vanno dalla grande viabilità variante al nord sbrozzola McNeil alla scuola scuola di Campo Cavallo dopo 100 anni di storia 4 milioni di euro una nuova scuola una nuova palestra a 500 metri quadrati e poi il grande investimento pronosimo sempre più green è vocato al turismo due piste ciclabili quella che collegherà la zona di Vescovara a Campo Cavallo e quindi alla pista ciclabile già esistente il tratto che collegherà Padiglione a passatempo che ci mancava per la più grande ed importante opera che è la ciclovia del Musone per il quale abbiamo ricevuto 650 mila euro della regione e ci porterà fino al mare inutile dire che c'è stato anche un richiamo a vivere in sicurezza il Capodanno i primi giorni del 2022 che dovrebbero portare le marche in zona arancione l'invito è vacciniamoci tutti ripartiamo in sicurezza e la cultura è motore dell'economia cittadina è motore dell'economia per le nostre marche ma soprattutto la cultura legata al mondo della pubblica istruzione è il futuro dei nostri giovani quindi fare cultura sul territorio significa accrescere i nostri giovani per il loro futuro e dare una dimensione cosmopolita alla nostra città Osimo città internazionale siamo ora alla pagina sportiva ed anche qui purtroppo il covid la fa da padrone la Lega Basket di Serie A ha disposto il rinvio di tutte le gare della 14esima giornata previste per domenica 2 gennaio i vi compreso ovviamente Carpegna Prosciutto Pesaro Armani Milano nei prossimi giorni si legge nella nota ufficiale saranno indicate le modalità di recupero delle predette gare ultime frenetiche ore di calcio a mercato molto attivo in Serie D il Montegiorgio che cede il difensore Andrea Pucca mentre vicinissima all'ingaggio dell'ex notarisco Ettiferno Lorenzo Marchionni probabile la separazione anche con l'attaccante Spagna la San Benedettese prosegue nella sua opera di rafforzamento con il difensore centrale Luca Thomas 30 anni che arriva a titolo definitivo dall'atletico Terme Fiuggi e vediamo ora le previsioni meteo per la giornata di San Silvestro venerdì 31 dicembre Ben trovati un aggiornamento con le previsioni di Trebi Meteo dalla mappa delle pressioni a livello europeo possiamo notare come un potente campo di alta pressione in questa ultima giornata del 2021 interesserà l'Italia ma in realtà gran parte dell'Europa centro-meridionale veicolando correnti molto miti anzi caldo anomalo dal nord Africa verso gran parte degli stati meridionali anche l'Italia andiamo a vedere la nuvorosità perché ritroveremo una giornata con cieli sereni o poco nuvolosi ovunque solamente le nebbie in pianura padana e sulle vallate interne del centro Italia in sintesi la mappa dell'Italia una bella giornata nord a sud con cieli sereni o poco nuvolosi foschie e nebbie invece in pianura padana e al mattino sulle vallate della Toscana temperature che al centro-sud toccheranno anche quasi 20 gradi ma marcato sensibile aumento delle temperature anche su Alpi Prealpi e zone collinari del nord Italia dettagli maggiori li trovate come sempre scaricando l'app gratuita di Trebi Meteo Riparte la serie a tre maschile di volley con il recupero dell'ultima gara del girone di andata tra Vigila Orfana e Meztor Tunit Macerata inizialmente programmata per il 26 dicembre i biancorossi saranno quindi ospiti del Palace Allende ed inaugureranno il 2022 con il derby una partita che si prospetta incerta contro una squadra che ha a disposizione molta più qualità di quanto non dica il momentaneo decimo posto in classifica appuntamento domenica alle 19 coach dipinto recupera il capitano Robbiati e potrà contare anche sull'ultimo arrivo l'opposto Giannotti si vedrà con quale utilizzo ma la Lega Pallavolo di Serie A ha invece disposto il rinvio a data da destinarsi della gara Cucine Lube Itastrentino in programma giovedì 6 alle ore 16 e valevole per la terza giornata di ritorno causa positività al Covid di più di tre atleti biancorossi lunedì 3 gennaio invece sarà la data per capire se e come ripartiranno i campionati dilettantistici di calcio dopo la videoconferenza di oggi con il presidente nazionale Abete con i vari vertici regionali è tutto grazie per la cortesa attenzione appuntamento a domani Grazie a tutti Grazie a tutti